Lo Stato non c'è più, mi armo. Quelle parole sulla legittima difesa lo scorso marzo avevano fatto il Giro d'Italia, tanto che il leader della Lega Nord Matteo Salvini lo aveva invitato a partecipare a una manifestazione di piazza del Carroccio. A distanza di dieci mesi l'annuncio, Angelo Mascolo, controverso GIP del Tribunale di Treviso, si candiderà al Parlamento. Non nelle file della Lega, però, ma in quelle della cosiddetta quarta gamba centrista. Oggi a mezzogiorno è partita la richiesta di aspettativa per motivi elettorali al CSM e domani mattina alle nove il plenum straordinario dovrebbe deliberare. Nessuno, guardi, è una candidatura un po' così, nessuno mi ha riservato posti blindati o altro. Mi è stato chiesto dalla cosiddetta quarta gamba di candidarmi e siccome apprezzo le persone che mi hanno fatto questa richiesta, ho pensato che se qualcuno, se bisogna, è che è inutile stare in casa e abbrontolare davanti alla televisione, che se si vuole cercare di fare qualcosa di meglio, i migliori, modesti a parte, i migliori si devono mettere in gioco, perché altrimenti ci saranno sempre i peggiori. Camera o Senato Mascolo non lo dice e nemmeno il Collegio. Comunque non sarà Treviso, perché io non posso candidare a Treviso, né in una zona che sia, diciamo, sotto la giurisdizione di Treviso. Il magistrato respinge con forza l'accusa di aver cercato, con le sue esternazioni della scorsa primavera, di darsi visibilità. Io ho sempre fatto il mio dovere e quello che ho scritto, non l'ho scritto certo per chiedere candidatura.